Ciao amici di Saperfare, eccoci ancora con altri video, questa volta facciamo una recensione a un prodotto che è davvero interessante, io l'ho visto, mi è piaciuto, me lo sono fatto prestare dall'amico mio di Santa Ninfa, ADS Elettronica, e ho detto me lo devi dare perché lo voglio far vedere. Si tratta di un modulatore per digitale terrestre, davvero interessante, non è un decoder ovviamente, però che cosa fa questo modulatore? Non fa altro che praticamente prelevare il segnale, per esempio, di un videoregistratore oppure un NVR delle telecamere, ad esempio, lo inietta sul modulatore e possiamo collegare l'uscita radiofrequenza del modulatore direttamente attraverso l'impianto d'antenna a TV. Con questo modulatore possiamo così avere, ovviamente trasmettendo in un canale libero del digitale terrestre, avere la visione delle nostre, per esempio, telecamere, il nostro kit di videosorveglianza in tutto l'appartamento. Quindi mettiamo un'ipotesi che l'appartamento è costituito da un'antenna a TV e quindi che si diffonde in tre piani. Allora collegando questo modulatore, ovviamente nell'apposita uscita di discesa, abbiamo la possibilità di vedere, per esempio, un'immagine HDMI all'ingresso attraverso un canale libero, ovviamente deve essere libero, del digitale terrestre. Quindi in tutti gli appartamenti possiamo vedere la stessa cosa. Utile appunto per chi ha magari un sistema di videosorveglianza e magari possibilmente ha la necessità di far vedere, appunto, su tutti i televisori degli appartamenti quella determinata telecamera che magari possa puntare a un parcheggio, qualcosa di tutto il condominio. Quindi un accessorio interessante che secondo me vale la pena acquistarlo per chi ha ad esempio un bed and breakfast oppure chi ha l'esigenza, anche un privato, di vedere dei segnali video attraverso, appunto, l'impianto di antenne a TV. Per il prezzo dovete chiamare ADS Elettronica che si trova anche su internet, basta digitare su Google ADS Elettronica e vi uscirà anche tutto quello che riguarda, diciamo, questa azienda. Però metterò anch'io il link e un numero di telefono sul video in modo che così potete contattarli. Adesso farò un altro video poi con dettagliato, appunto, lo vedremo in funzione con le varie spiegazioni di questo modulatore. Bene, diciamo subito che questo modulatore è in grado di generare un segnale in formato DVB-T digitale terrestre da una sorgente audio-video HD collegata all'ingresso HDMI, opera con una codifica H.264 con sistema di modulazione DVB-T integrato per convertire il segnale da HDMI a DVB-T in radiofrequenza. ovviamente è dotato anche di un ingresso HDMI e un'uscita HDMI, HDMI pass e un'uscita a radiofrequenza con loop. Il modulatore regola il rapporto di compressione per la larghezza di banda disponibile utilizzando i parametri DVB-T di modulazione. Ovviamente il segnale DVB-T è generato da un modulatore che sarà ricevibile direttamente su apparecchi TV o decoder DVB-T in grado di sintonizzare i canali HD e MPEG-4. Il modulatore offre dei tasti di navigazione su, giù, destra, sinistra, menu ed ENTER. Per poter entrare sul nostro menu dobbiamo lasciare tutti i zeri e confermare con ENTER. La prima voce che abbiamo è NETWORK SETTING. Spostandoci abbiamo CANALE ed ENCODER SETTING. Dopodiché ancora in avanti abbiamo RADIOFREQUENZA SETTING, INFORMATION, LOAD DEFAULT, quindi per caricare tutto in default, BACKUP CONFIG, RESTORE CONFIG e poi CHANGE PASSWORD per cambiare la password. Dopodiché si ritorna NETWORK SETTING. Ma adesso entriamo su NETWORK SETTING, premendo il tasto ENTER, la prima voce che abbiamo è COUNTRY, ovviamente io ho impostato ITALI, ITALIA. Spostiamoci con il cursore destro per avanzare e abbiamo ORIGINAL NETID, sarebbe il numero che identifica la rete da cui proviene il segnale. Dopodiché andiamo ancora avanti e troveremo NETWORK ID, è il numero che identifica la rete in cui viene distribuito il segnale. NETWORK NAME, io ho impostato il nome del mio paese, partando a TV così tanto per fare un nome a caso, spostandoci ancora, abbiamo TSID, che sarebbe l'identificatore del TRASPORT, che è lo STREAM, quindi il TRASPORT DATI. In caso di utilizzo di più modulatori, una distribuzione, questo valore deve essere diverso per ogni modulatore, quindi se questo è 33, deve essere impostato in maniera diversa da un altro modulatore. Il NETVERSION, che sarebbe per quanto riguarda che in alcuni paesi deve corrispondere con la versione in uso ricevuta dal ricevitore, perché se no non abbiamo appunto il nome visualizzabile sulla lista dei canali. Spostandoci ancora, andiamo di nuovo su COUNTRY, quindi andiamo di nuovo su MENU e usciamo da NETWORK SETTING per spostarci con il destro, con il cursore destro, su CANALE ENCODER SETTING, confermiamo con ENTER e abbiamo il SERVICE NAME, il SERVICE NAME è ovviamente il nome del canale, canale 1 in questo caso. Se spostiamo ancora con il cursore, andiamo su PROVIDER NAME, che sarebbe il nome del fornitore del servizio modificabile, ovviamente, il SERVICE ID, che è il SERVICE ID modificabile, l'LCN, che ovviamente è il valore numerazionale canale, quindi i valori sono compresi tra 1 e 999, il VIDEO OUTPUT, impostato con, diciamo, con una compressione a H264, l'audio output con MPEG2, il VIDEO BITRATE a 12 Mbps e l'audio BITRATE a 192 Kbps. Ritorniamo al SERVICE NAME, quindi usciamo dal MENU e andiamo su, spostandoci su RADIO FREQUENZA SETTING, confermiamo e abbiamo impostato in questo caso il canale 21 a 474 MHz, ovviamente, se questo canale dovrebbe risultare occupato da altre emittenti TV, dovete spostare e cambiare il canale in un altro canale, quindi in un'altra frequenza, per evitare, appunto, di avere problemi poi nella ricezione del segnale. la costellazione è 64 QAM, il GUARD INTERVAL è a un quarto, il CODERATE due terzi, questi sono tutti i valori di default, ovviamente, del nostro modulatore, io consiglierei di lasciarli in questo modo, 8K per l'FFT CARRIER, il BAND WHITE, quindi la larghezza di banda, è impostata a 7,8 MHz, la potenza in uscita, in questo caso, è impostata a meno 18 dB, con un valore massimo si può arrivare a meno 20 o 0 dB, variabile. Ritorniamo a frequenza, andiamo sul MENU per uscire, spostiamoci con il cursore destro, e andiamo su informazioni, con OK abbiamo il firmware, ovviamente con l'app del nostro modulatore, e ritorniamo sul NETWORK SETTING, quindi come vedete, le impostazioni del menu sono veramente poche e quelle da utilizzare sono alcune più principali, cioè la frequenza, il canale di trasmissione, la potenza in decibel, e se vogliamo dare un nome al nostro canale. Bene amici, di saper fare, se questo video di questa recensione vi è piaciuta del modulatore, mettete un like, ovviamente, e condividete questo video con i vostri amici. ci vediamo al prossimo video con altri interessanti prodotti da farvi vedere. ciao ciao! ciao!